Abbiamo ancora argomento, semplificare è possibile, lo dimostra il piano operativo del Comune di Chiusi approvato dal Consiglio Comunale. Si tratta del primo piano operativo, ovvero il piano operativo è la parte attuativa del piano regolatore comunale, quella che per capirsi traduce in consumo di suolo le previsioni contenute nel piano strutturale. Questo piano operativo del Comune di Chiusi ha superato lo screening della conferenza paesaggistica, la cosiddetta conferenza articolo 21 temuta e guardata con diffidenza dai pianificatori comunali in questa prima fase di applicazione. E' dunque chiusi il primo comune toscano ad essersi dotato di un piano operativo che riconosce al paesaggio il ruolo ordinatore del governo del territorio. Ma sentiamo adesso le parole del sindaco di Chiusi, Iuri Bettollini e dell'assessore regionale all'urbanistica della regione toscana, Vittorio Ceccarelli. La dimostrazione che fare dei piani che determinano uno sviluppo e raccontano come può crescere una città, può essere fatto anche conformandoci alle norme paesaggistiche della regione toscana. Una sfida grandissima, forse l'elemento qualificante del nostro piano regolatore, che mancava nella nostra città da 42 anni e che c'era bisogno oggi di tradurre in azioni concrete. azioni concrete che parlano di sviluppo, parlano di recupero, perché il nostro piano è fortemente evocato a recupero. Solamente il 10% delle previsioni urbanistiche sono destinate a nuova urbanizzazione, quindi veramente andare incontro a quelle esigenze che oggi conosciamo perfettamente, ma puntando fortemente al recupero. E dire che investimenti pubblici e investimenti privati nella nostra città sono fattibili e che soprattutto si possono conformare con le norme paesaggistiche. Rendere l'elemento qualificante, rendere il nostro ambiente, il nostro paesaggio, l'elemento di forza del nostro piano regolatore è un momento di grande soddisfazione. Noi abbiamo due grandi esempi a livello pratico. Uno è la vecchia Fornace, un monumento storico della nostra città, in stato di abbandono da tanti anni, dove troverà una grande riqualificazione. Quell'area si trasformerà in una piccola cittadella, un piccolo quartiere, 10.000 m2 di destinazione residenziale, 2.000 m2 di destinazione commerciale, 2.000 m2 di destinazione direzionale, oltre a spazi pubblici per la comunità per oltre 2.600 m2. Quindi una riqualificazione veramente in toto. L'altro grande elemento è la vocazione turistica della nostra città, con un grande investimento nel centro storico, destinando immobili particolari, grandi contenitori ad avere una destinazione turistico-ricettiva e soprattutto dare all'interno delle mura la possibilità di realizzare degli alberghi diffusi. Mancava la destinazione urbanistica, questo piano lo prevede, quindi grande rilancio anche del centro storico. Con questo primo piano operativo, che è conformato al PIT piano paesaggistico, avremo anche concretamente la rappresentazione del fatto che semplificare si può e si può anche rispettando quelle che sono le peculiarità, quello che è il carattere ordinatorio del paesaggio rispetto alla pianificazione. In questo modo il Comune di Chiusi fa un grande servizio ai propri cittadini, perché non ci sarà più bisogno, dopo questa conformazione, dell'espressione della commissione tecnica, quella riferita all'articolo 21 del PIT sui singoli provvedimenti, sui singoli piani attuativi, non ci sarà più il parere della sovrintendenza, se non obbligatorio, ma non vincolante rispetto alle scelte che il Comune di Chiusi farà. Quindi ritengo che questo sia un atto veramente importante, che è il frutto di una grande collaborazione tra il Comune stesso e la Regione. Sono state fatte, credo, quattro commissioni congiunte, la commissione che prevede la presenza della Regione, del Ministero e del Comune stesso, questa volta però non sul singolo piano attuativo, non sul singolo provvedimento, ma appunto sul piano operativo. Quindi in questo modo il Comune avrà ora la possibilità, avendo un piano operativo che è conformato, che è rispettoso quindi del piano paesaggistico, di poter fare le proprie scelte in autonomia, ma nel rispetto di quello che il piano prevede. Quindi spero che questo sia ad esempio e che molti Comuni in tempi rapidi possano fare come ha fatto il Comune di Chiusi.